Ragazze, buon pomeriggio a tutti voi. Io adesso vi presento i passi del cia 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 con tre calci. Partiamo con la gamba destra, pronti? Partiamo così. Uno, due, tre, quattro, cinque, tre, sette, otto, cia cia cia, due, tre, cia 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 e cia cia cia. Ok, buona lezione a tutti voi. Ciao ciao. Non andate di pallone. Ok ragazze, buon pomeriggio a tutti voi. Mi raccomando ripassate i nostri balli. Ciao carissime, alla prossima!